Sì, praticamente va cambiato tutto, quindi svuotato di tutti i filati, riempito con tutte le sfumature attuali, insomma ecco, tante modifiche dobbiamo fare. Ebbene sì, Tessilan Condivision sta tornando, ci saranno tante novità, è vero, forse ci siamo fatti attendere un po', ma credetemi ne varrà la pena. In questo periodo non siamo rimasti senza far nulla, infatti molte di voi già lo sanno, abbiamo parlato un sacco, chiacchierato, fatto domande, risposto, abbiamo accolto ogni vostra richiesta, ci abbiamo lavorato su, ci abbiamo ragionato e alla fine ne è uscito fuori un Tessilan Condivision molto diverso, tutto nuovo. Di base ci sarà sempre la stessa location, ci sarò sempre io e ci saranno sempre le vostre foto, perché comunque Tessilan Condivision rimane una rubrica fatta da voi e per voi, infatti proprio in seguito a tutte le vostre richieste abbiamo raccolto il tutto e siamo giunti a questa conclusione. Tessilan Condivision andrà in onda non più quattro volte in un mese, quindi ogni giovedì, ma due volte, ogni due settimane. In queste due puntate però raccoglieremo il tutto, vale a dire che in una puntata vedremo tutte le vostre foto, o meglio quelle che vi hanno colpito di più e quella che ho ottenuto più mi piace durante il mese precedente e in più analizzeremo un tutorial, quello che ha riscosso più successo tra le creative che tutti conosciamo. E anzi faremo intervenire proprio loro, quindi ci faremo dare i loro consigli, ma vi daremo anche dei consigli sulle alternative, insomma risponderemo a tutte le domande che avremo raccolto fino ad allora. Nell'altra puntata invece parleremo di tutt'altro, vale a dire che analizzeremo meglio quelli che sono gli articoli del nostro blog Meglio di Maia, l'articolo che vi ha colpito di più, quello più interessante e chissà che magari non intervenga anche qualcuno. E inoltre torna nuovamente la rubrica di Tessilan Condivision, o meglio quella parte di Tessilan Condivision riservata alle domande più frequenti, alle problematiche, ma anche alle novità. Insomma saranno due puntate super concentrate, ricche, mi raccomando, quindi seguiteci. Questa è solo una piccolissima anticipazione, insomma ne vedremo nelle belle. Io intanto continuo insomma a pensare all'arredamento. Allora dicevamo, dobbiamo quindi cambiare, svuotare nuovamente, poi appenderemo qui qualcosì.